buonasera buonasera allora allora primo pagellone dell'anno primo pagellone dell'anno prima pagelle dell'anno del gran premio del bahrain allora charles clerk partiamo subito la grande 10 e lode 10 e lode io l'ho esaltato esaltato l'ho difeso più che esaltato il primo anno quando vetter rompeva i coglioni l'ho asframente criticato scusate un attimo l'ho asframente criticato quando faceva cazzate di lui ho detto che saiz mi appariva più affidabile oggi signori ieri ha fatto la gara perfetta ha fatto la gara perfetta ieri ha fatto una gara perfetta consistente grand celem cioè paul vittoria giro veloce è sempre in testa dal primo all'ultimo dalla prima all'ultima fase del gran premio è quel che ha fatto vedere nei duelli con verstappen dopo il primo pit stop fatto venire una grande maturità una grande maturità perché io quando ho visto verstappen ruota 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 con lui non temevo non temevo tanto verstappen quando l'inveterata abitudine di leclerc a fare cazzate perché la macchina si vedeva che era superiore si vedeva che la macchina ne aveva di più io temevo qualche cazzata di verstappen però è andata bene ha dimostrato soprattutto nei due sorpassi che ha subito dove lui non ha provato a resistere perché sapeva di essere più forte lui ha aspettato e ha preparato la contromossa la prima e la seconda volta è stato bravo intelligente veloce maturo perfetto 10 e lode carlos sainz 8 e mezzo 8 e mezzo perché non sbaglia praticamente nulla solo un grande verstappen ha impedito diciamo a posteriori solo un grande verstappen ha impedito una prima fila tutta rossa nelle qualifiche ha fatto la sua gara non ha mai sofferto perez quando c'è stato da approfittare delle difficoltà di verstappen c'è stato fa un secondo posto primo e secondo posto bene in qualifica bene nelle libere benissimo 8 e mezzo Lewis Hamilton voto 7 non poteva fare di più onestamente non poteva fare di più anzi anzi ha avuto il merito e la fortuna anche nel approfittare della safety car ma quella ce l'ha avuta anche Verstappen nell'arrivare dietro le clerca diciamo ha avuto il merito e la fortuna di trovarsi e di approfittare anche lui delle sfortune altrui ha una macchina che ha palesato delle difficoltà anche se onestamente diciamo che in gara un po' meglio che in qualifica questa mercedes una mercedes che non diamola per morta non diamola per morta perché questi possono trovare delle soluzioni una squadra che ha vinto 8 mondiali di fila magari si è trovata un po' si è trovata un po' sfasata col nuovo regolamento ma potrà crescere lui l'ho detto prende 7 perché il voto lo merita più per la qualifica che ha fatto io l'ho visto l'altra volta fra le clerca e le mercedes c'è un secondo fra le clerca e emilton ce n'è meno perché il valore della mercedes ce l'ho da russell perché emilton è troppo discutere emilton vuol dire capirci poco di formula 1 voto 7 russell 6 più la sufficienza la prende ma è ovvio che lui è dalla misura del momento mercedes gli do un più perché comunque non ha sbavature non fa cazzate e arriva a questo quarto posto che è importante visto il momento kevin magnus è il 7 e mezzo signori 7 e mezzo un il classico carneade che fa un'ottima gara davvero un'ottima gara battagliare con le mercedes poi ragazzi non è è tanta roba è tanto scusate che regolo questa luce battagliare con le mercedes sistemiamo qua è davvero tanta roba ragazzi 7 e mezzo stra meritato allora valteri bottas 6 meno l'ho detto ieri per come siano messe le qualifiche per come va brillato nelle qualifiche per come aveva fatto bene l'alfa rovina tutto con quella partenza e sappiamo tutti che bottas quando deve sorpassare non è arte sua 6 meno o con voto 6 e mezzo sempre meglio del suo compagno di squadra per tutto il weekend l'alpin è una macchina che può far bene e lo ha dimostrato lui meglio del suo pluridecorato compagno va bene 6 e mezzo sunoda voto 6 è il solito sunoda casini non casini però ha il merito di trovarsi in zona punti sarebbe andato a punti anche senza il ritiro delle red bull e quindi merita la sufficienza alonso 5 e mezzo nando non ci siamo puoi dare molto di più e lo sai intanto la luce sta sempre più spegnendosi un attimo che l'accendo blocchiamo l'esposizione ecco qua prendiamo questo non lo mettiamo a carica allora stavo dicendo stavo dicendo alonso le prende dal compagno di squadra non fa una grande gara arriva a punti solo per le disgrazie della red bull e quindi una gara dove un weekend dove non mi è piaciuto one new ju il cinesino 6 e mezzo 6 e mezzo sarebbe anche stato 7 però non va a punti naturalmente prende un punto storico punto di un cinese in formula 1 il ragazzo c'è e lo ha dimostrato l'anno scorso prende 6 e mezzo ma le avrei dato 7 se questo arriva a punti non fosse di peso dal doppio ritiro red bull comunque il ragazzo c'è è consistente ha praticamente un quarto della popolazione mondiale che lo spinge che spinge per lui quindi signori il ragazzo c'è non è solo uno che arriva con alle spalle un grande colosso economico che arriva in formula 1 ma il ragazzo è bravo non ha fatto praticamente mai errori si è fatto notare e mi piace mi piace è uno che può dire la sua mick schumacher 5 e mezzo e anzi diciamo 5 e più perché voi sapete io questo ragazzo tolgo sempre mezzo punto per il cognome che porta il ragazzo c'è il ragazzo c'è non è come giù non fa sbavature non fa sbavature però onestamente con l'alfa romeo che si è vista fino a sabato come cioè con la as che si è vista con magnusen ragazzi ragazzo devi fare di più vista la gara che ha fatto magnusen perché non è che kevin magnusen ha molta più esperienza di mick schumacher quindi letteralmente sul classato se c'è se tuo avversario se tuo compagno di squadra mi fa quinto non puoi arrivargli sei posizioni dietro non esiste non è che ha molta più non stiamo parlando di emilton di leclerc di vettelo di norris quindi caro mick devi fare di più stroll 5 anonimato totale non fa sciagure ma praticamente non viene mai nominato da vanzini praticamente è vero che è anche il momento della macchina che non brilla certo per prestazioni però anche lui vabbè albon sei più e fa una gara discreta si è visto battagliare lo ragazzo è bravo il ragazzo a me piaceva anche quando era in red bull o in toro rosso il ragazzo c'è mi piace ha dimostrato di poterci stare in formula 1 onestamente molto meglio del suo compagno di squadra fa una gara dignitosa ricciardo e norris anche cinque cioè gli do cinque d'incoraggiamento perché lì il problema è la macchina è chiaro ed evidente che la mclaren ha avuto una caduta di prestazioni assurda assurda subisce il momento delicato della mercedes e va così va così la tifi 5 stesso discorso di strolla totale anonimato quindi poca roba davvero ulkenberg 5 e mezzo lui rispetto a sostituiva vettel positivo al covit lui rispetto a stroll comunque l'alte all'attenuante che era fuori dai giri quindi si è scapicollato per andare in bahrain e correre il gran premio non ha fatto neanche una brutta figura quindi va bene gas lee un 6 gas lera in zona punti finché non si è rotto il motore fa una la sua solita gara senza infamia senza lode la sufficienza però per me la strappa poi veniamo al duo red bull allora verstappen 7 e mezzo gli do 7 e mezzo perché onestamente riuscire finché è stata in pista riuscire a battagliare con questa ferrari a grossi meriti perché ieri la ferrari si è davvero dimostrata superiore è solo un grande campione solo un campione poteva tenere poteva tenere in forza la vittoria della rossa fino alla fine perez 6 e mezzo anche lui non fa danni finché la macchina regge tiene benissimo dietro gli altri non insidia mai per la verità science poi gli si rompe la macchina e addio poi muretto ferrari è otto e mezzo otto e mezzo signori siamo tornati muretto io per muretto intendo anche box ferrari signori siamo tornati ai vecchi tempi quando la ferrari non poche volte ha vinto le gare ai box con pit stop fenomenali recupera praticamente mezzo secondo a pit stop rispetto alla red bull benissimo 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 mercedes 5 in totale confusione ma lo è dall'anno scorso solo che l'anno scorso c'erano le prestazioni della macchina è un super pilota che aveva a consentirli di arrivare all'ultima gara quasi a vincere il mondiale perché non dimentichiamo mai che senza il problema latifi a quest'ora il campione del mondo sarebbe emilton non ce lo scordiamo mai nonostante la mercedes non grazie alla mercedes se per i primi anni era grazie alla mercedes lo scorso l'anno nonostante la mercedes va bene raga spero naturalmente attento con me attento commenti iscrizione al canale ciao